I ritardi e mancati investimenti sono stati tratti salienti fino ad oggi di quanto verificato in Senato sull'area di crisi complessa istituita a seguito della riconversione green della raffineria Eni di Contrada Piana del Signore e del protocollo del 2014. Anche ieri mattina i senatori della Commissione Industria hanno avuto modo di indagare le vicende piuttosto travagliate di uno strumento che avrebbe dovuto assicurare investimenti sul territorio ma anche bonifiche e infrastrutture. Ad oggi si è rivelato del tutto inefficace. In audizione sono stati ascoltati i massimi dirigenti del Ministero della Transizione Ecologica, l'ex Ministero dell'Ambiente e di quello delle infrastrutture ad interrogare dirigenti come già fatto anche nelle altre audizioni. C'era anche il senatore Grillino Pietro Lorefici e il quadro complessivo si conferma deficitario. Il direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica Giuseppe Lopresti che si occupa del settore del risanamento ambientale ha detto che la regione ad oggi non ha ancora trasmesso gli atti della riperimetrazione del sito di interesse nazionale. Secondo Lorefici è veramente molto grave perché nel SIN, così da avere i fondi per le bonifiche, vanno inserite le aree dei pozzi e quelle delle pipeline ma anche l'ex discarica industriale Marabusca. Senza la trasmissione degli atti però il Ministero non può procedere. In municipio la scorsa estate partirono le planimetrie aggiornate su impulso del vice sindaco Terenzano Di Stefano destinate alla regione. Documentazione che però deve arrivare al Ministero per avere lo sblocco dei fondi. Invece, come ha spiegato il direttore generale, pare che le carte siano ferme a Palermo e che la regione non abbia dato seguito. La situazione non è delle migliori neanche rispetto ad infrastrutture viarie quasi eterne come la Siracusa a Gela. L'orefice spiega che tanti quasi periodicamente arrivano in città a farsi campagna elettorale sulla Siracusa a Gela, ritenuto ormai vicina al completamento invece dal dirigente del Ministero delle Infrastrutture sentito in audizione emerso che per i lotti che riguardano il territorio locale si è ancora alla fase della progettazione preliminare ma quello che più colpisce secondo l'orefice è che i tecnici del Ministero non risultano informati su fondi per finanziare quest'opera. Vuoti burocratici allarmanti soprattutto perché l'indagine del Senato sta facendo emergere tutto ciò che non si è riuscito a concretizzare con strumenti già finanziati sia dal governo nazionale che dalla regione. Le audizioni in commissione proseguiranno forse fino alla prossima settimana mentre già un dato di fatto che l'accordo di programma scadrà ad ottobre c'è la necessità di rinnovarlo di puntare su altri strumenti come il contratto istituzionale di sviluppo per non perdere anche questi fondi. Toccherà ai senatori stilare una risoluzione finale e i dati ad oggi acquisiti segnalano enormi criticità a tutti i livelli.